Benvenuti al Meteo di Telenuova, domani è venerdì 26 febbraio. Precipitazioni deboli su molte regioni, segnatamente su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, le coste Campane, Tirreniche, Calabresi. Piogge sul Sassarese e in serata moderate al nord ovest e poi Toscana, Umbria e Lazio in nottata. La perturbazione giunta giovedì si allontana gradualmente favorendo un miglioramento a partire dalla campagna settentrionale. Ancora piogge sul Cilento, interne campane. In serata la rotazione delle correnti da ovest e sud-ovest favorisce un nuovo aumento della nuvolosità sulla campagna tirrenica settentrionale con nuovi fenomeni la notte sul compatto tirrenico. Temperature lieve calo nei valori minimi, massime e stabili e incontenuta flessione. Venti moderati, tesi settentremari in attenuazione, mari molto mossi.